Buonasera a tutti, benvenuti. Questo è il primo appuntamento dell'anno di Novasette Talk. È un nuovo format che ci accompagnerà alla prossima edizione del Festival dell'Innovazione della Scienza. Parleremo di mondo imprenditoriale, di startup, di innovazione. Abbiamo il piacere di presentare Matteo Stoppa. Si presenterà poi in realtà a lui perché altrimenti ruberà tutto il tempo della presentazione con la presentazione del relatore stesso. È un innovatore seriale, è conosciuto in tutti i mondi, probabilmente anche qualcuno di voi lo conosce direttamente perché l'ha incontrato in vari emisferi del pianeta e non solo il pianeta Terra. L'appuntamento sarà due volte al mese, ci rivediamo poi il primo febbraio con Marco Ivaldi, sempre la prenotazione su Eventbrite, esattamente come questa volta, e cerchiamo di mantenere di voi il festival. Vi ringraziamo. Da giovedì l'incontro sarà anche visibile online su Novasette Talk. Lascio la parola a Matteo. Grazie, grazie mille Daniela. Buonasera a tutti. Gentilmente mi ha introdotto Daniela, adesso appunto mi chiamo Matteo Stoppa. Oggi vi parliamo un pochettino, cioè vi parlo, poi vi racconterò degli esempi, certo, ma in generale l'argomento della serata è legato appunto al mondo startup e ha le sue terminologie che lo circonda. Tanti inglesismi vedrete, tante parole che vi risuonano, che avrete letto sicuramente in qualche giornale, sentito in qualche serie televisiva, eccetera, ma oggi cerchiamo di spiegarli, ok? Così cerchiamo un po' di fare un po' di chiarezza all'interno di poi questo mondo, che non è tanto diverso da un mondo industriale poi alla fine, semplicemente ci sono alcune dinamiche che lo rendono particolarmente unico. Approfitto per solo una brevissima presentazione, in senso di introduzione. Io su queste immagini rappresento due elementi che sono un po' la mia passione. Una parte parliamo di Olivetti, io arrivo da zona di Campania di Ivrea, sono figlio di una famiglia olivettiana che ha lavorato da generazioni presso l'azienda. Questa che vedete è la programma 101, il primo personal computer al mondo, quindi ci sono tutta una serie di valori, se volete, anche annegati qua nel territorio, che mi piace sempre raccontare. L'altra invece è un aspetto aerospaziale, come vedete, un astronauta, perché fa parte anche quella di una mia passione, che nonostante il percorso che ho fatto, adesso mi ci sono trovato comunque con grande piacere a lavorare. Io di formazione sono un ingegnere biomedico, ho studiato qua a Torino, e poi ho lavorato nel settore aerospaziale, prima di finire poi un po' nel mondo start-up. Anche se dire la parola prima è un po' sbagliato, perché è un po' un durante. importante, perché io dopo l'università inizio a lavorare nel settore aerospaziale, come vi ho appena detto, vinco una borsa di dottorato e inizio a lavorare per questo bambino che è iCAB, l'Istituto di Tecnologia, sviluppo dell'elettronica, dei sensori, comunque delle attività di ricerca, svolgo la mia attività di dottorato, presso l'Istituto di Tecnologia qua a Torino, con poi verso, diciamo, sul finale anche di nuovo un ritorno verso le attività aerospaziali. Io da biomedico mi occupavo di monitoraggi, parametri vitali, appunto, di astronauti in orbita, con l'obiettivo di trovare poi delle tecnologie che potessero essere utili per le missioni di media e lunga durata. Difatti, in questo caso, voi vedete un astronauta che sta compiendo delle attività fisiche a bordo della stazione spaziale orbitante, con una tuta indossata, all'interno del quale ci sono tutta una serie di sensori che possono andare a monitorare le sue attività. Considerate che loro fanno circa tre ore al giorno di attività fisica, quindi non è neanche un'attività da prendere sotto gamba. Ci sono tutta una serie di motivazioni e, se volete, ne apriamo poi un talk dedicato, ma successivamente, quello che vi ho fatto vedere, copre tutte le mie attività fino, io mi laureo nel 2012, fino al 2016, quando concludo la mia attività di dottorato, l'immagine che avete visto prima. Questa, che vedete, è stata la prima startup che ho avuto l'occasione, la fortuna, di costituire, di fondare, di creare, insieme ad altri ragazzi, un prodotto, un servizio, se ne metto sul mercato, è un'attività che, insieme ad altre persone, abbiamo svolto e personalmente ho svolto durante, cioè io di giorno facevo le attività di ricerca e poi alla sera, in weekend, in Santo Stefano, nel senso tutto il resto del periodo, un po' dell'anno, era volto un po' sia a formarmi, perché ovviamente io ho un background ingegneristico, mi mancavano tutte delle basi che potevano essere legate più al mondo business, e con marketing, commerciale, management, eccetera. Quindi c'è stata tutta una parte di formazione, tutta una serie di tentativi che poi non sono andati in porto, fino a che poi nel 2014 è iniziata questa attività legata alla realizzazione di un antifurto satellitare per biciclette che è entrato sul mercato nel 2017. Un prodotto venduto in Europa e Stati Uniti, con una serie di negozi distribuiti poi sul territorio europeo, che noi avevamo la sede qua a Torino all'interno dell'incubatore, con anche poi una serie di attività svolte in Inghilterra, perché in quel momento mi trovavo là. Aneddoti vari, ce ne sono a Bizzeffe, siamo qua in questa immagine al Peaches Palace, che ci troviamo a presentare, anzi mi trovavo a presentare di fronte al Duca di York l'iniziativa per cercare di fare un'attività di raccolta fondi, andiamo a Cupertino, andiamo alla sede della Apple perché riusciamo a fare delle attività con loro per cercare di integrare il nostro prodotto con i servizi Apple. Ci sono state tutta una serie di vicissitudini che nell'arco di tre anni sembra di averne vissuti praticamente sei. Successivamente poi la start-up è stata acquisita poi da una multinazionale nel 2019. Quindi ha fatto un ciclo completo, quindi dalla sua ideazione, dalla sua sperimentazione, messa sul mercato e poi a conclusione la vendita. Non è obbligatorio fare un ciclo di questo genere, è un ciclo che in questo caso a noi è capitato e che se volete possiamo considerarlo quasi tipico, ma nel senso siamo riusciti in qualche modo a chiudere il cerchio. Nell'immagine che vedete invece è stata un'altra start-up oggi esistente, oggi presente, in questo momento anche questa è presente all'interno del Cubato di Torino, su cui io ho reinvestito in qualche modo le mie competenze dalla prima esperienza, si chiama Nova Stark ed è un'attività legata al settore del vino, quindi saltiamo completamente a un altro ambito, c'è sempre della tecnologia di medio, c'è sempre un modello di business da poter sviluppare, eccetera, però al di là del topic preciso e particolare, che è il suo primo panorama di bicicletta e il suo panorama di vino, ma comunque ci sono delle metodologie comuni, ok? Che adesso ripercorremo un attimino con le parole che andiamo a descrivere. Inizierò, vi dico un'ultima cosa, poi dopo queste attività legate a Sherlock, che nel 2019 ha avuto un suo epilogo, ci sono state diverse attività, se volete, di consulenza, sempre nel settore delle start-up e quant'altro, ne cito una di esempio, questa qua è Scribit, un'eccellenza anche questa di start-up torinese, ha una campagna di crowdfunding, di raccolta fondi di 2 milioni e mezzo, migliaia di prodotti da spedire in giro per il mondo, un prodotto che ha vinto anche diversi premi di design, questo è un robot che messo su un muro è in grado di fare un disegno, realizzato, progettato e realizzato qua a Torino, e appunto spedito in tutto il mondo. Io su questa attività, ad esempio, è un esempio di attività consulenziale che ho svolto. Benissimo, io non sto a parlare altro di me, perché appunto andiamo direttamente un po' all'argomento del giorno, e iniziamo con la prima parola. Start-up, trattino, senza trattino, qualcuno l'ho visto anche scritto a Cosenza, la U con la A, Allora, si può scrivere in mille modi diversi, ma il succo di discorso qual è? È sempre e comunque un'azienda, tipicamente un SRL in Italia, che ha delle particolarità legate soprattutto ad innovazione, significa che è un'azienda che a livello poi giuridico, a statuto, eccetera, rispetta alcuni requisiti, che possono essere avere a disposizione un brevetto, oppure avere una percentuale dei soci fondatori che hanno una laurea, un titolo di dottorato, oppure avere una percentuale delle attività reinvestite, ricerca e sviluppo. Comunque ci sono una serie, non tantissima, comunque tendenzialmente al minimo tre requisiti, che devono essere rispettati per poter essere siglate come start-up. Tenete in considerazione che nel 2014 alla Camera di Commercio di Torino una start-up era considerata anche un'azienda che avviava un e-commerce. Oggi non è più così, nel senso che l'innovazione che si poteva pensare nel 2014, oggi è quasi un'abitudine, nel senso, fa quasi normale aprire un e-commerce. Quindi la sola voce, diciamo, caratteristica dell'azienda e-commerce che vende un articolo commerciale, non è definito in questo momento come start-up, ma bisogna, diciamo, in qualche modo aggiungere qualcos'altro. Può darsi che sia, non bisogna sempre pensare nell'innovazione come una cosa tecnologica, un'innovazione si può fare nel settore giuridico, come nel settore, diciamo, linguistico. Cioè, non è che deve essere per forza una roba tech in cui bisogna fare un prodotto fisico. Si può fare innovazione in mille modi diversi. Però, comunque, giusto per inquadrare un po' il contesto. Quindi, parliamo di un'azienda a tutti gli effetti. Ci sono, per carità, delle agevolazioni fiscali, ma il resto non cambia. Poi, queste start-up dove stanno? Allora, possono stare, non è obbligatorio, all'interno di due, diciamo, adesso citiamone due in particolare, due spazi fisici, che sono un incubatore e un acceleratore. Poi, ho detto la parola fisici, ma mi correggo, possono essere anche virtuali, nel senso che possono essere anche dei contenitori, diciamo, delle società, al cui, nel senso, io posso, diciamo, aderire, eccetera, ma che non devono avere per forza una sede fisica. Comunque, per semplicità, un incubatore, qua a Torino, possiamo pensare a quello del Politecnico di Torino, quello dell'Università di Torino, parliamo di incubatori universitari, perché sono legate all'università, possono farne parte chiunque, a meno che, comunque, rispetti dei requisiti che in quel momento l'incubatore ha, nel senso, decreta, c'è una commissione che valuta l'iniziativa, non ci devono essere, obbligatoriamente, dei legami universitari, nel senso, siglati, ma, comunque, diciamo, ci sono delle regole, tale per cui, ci deve essere un certo grado di innovazione, eccetera, eccetera, finché si possa entrare a far parte. Sono degli spazi fisici, in cui si può avere un ufficio, che può espondare dalla singola scrivania, uno spazio di coworking, a un ufficio intero, ci sono dei servizi che vengono messi a disposizione della startup su un tempo limitato di qualche anno, un po' per garantire anche un po' un discorso di turnover e dare la possibilità ad aziende di entrare in questi luoghi, crescere, perché vieni supportato, vieni portato avanti nelle tue attività, e passi da quell'embrione, se volete, di idea, fino ad arrivare, potenzialmente, nel momento più veloce possibile, nella maniera più veloce possibile, al prodotto che deve essere messo sul mercato. L'incubatore tendenzialmente non entra in quote societarie, non va a intaccare quello che è la società in questo momento che è lì presente, non è un ente finanziatore, quindi non mette dei capitali, dei soldi, allo scopo di incubare, quindi portare una situazione, se volete, embrionale, fino a maturazione. E poi molte di queste aziende, che sono presenti qua a Torino, poi sono uscite da questo, nell'arco di tre anni, hanno completato il loro ciclo, sono uscite, sono diventate delle attività, ormai camminando con le proprie gambe, sparse poi in luoghi in tutta Italia, cioè nel senso, poi alla fine rimani pur sempre un'azienda come tutte le altre. L'acceleratore, l'acceleratore, come dice la parola stessa, fa un'accelerazione su un progetto start-up, quindi su un'azienda, un progetto, cioè quindi, quando dico progetto, vuol dire che può essere, appunto, un'attività non costituita, quindi non legalmente, un SRL, eccetera, ma può essere una brillantissima idea, che però deve essere, in qualche modo, minimo validata, prima di fare quel passo, e andare dal commercialista, dal notaio, a costituire, a firmare l'attività, alla società. Quindi, quando dico progetto, intendo, diciamo, un pochettino lo step prima, perché poi dopo diventi poi una start-up vera e propria, nei momenti in cui poi vai a confermare, a firmare i documenti. L'acceleratore, ce ne sono anche qua diversi, il più famoso, Techstars, che abbiamo a Torino, un acceleratore americano, di origine americana, che ha messo una sua base qua a Torino, tu passi una selezione, sostanzialmente possono essere degli acceleratori tematici, quindi qua a Torino aveva iniziato, diciamo, la prima parte sul discorso della mobilità, con le prime edizioni, quindi ogni anno c'era una call, quindi un bando, a cui io potevo aderire, se avevo un progetto legato, ad esempio, alla mobilità, se vinco, e riesco ad accedere, ad esempio, a questa fase di accelerazione, posso ricevere dei fondi, e ho tre mesi di tempo, quattro mesi, cinque mesi, dipende dai programmi di accelerazione, comunque un periodo limitato, in cui vieni seguito da dei mentor, vieni seguito da delle persone, che ti aiutano, ad accelerare, in quel brevissimo, lasso di tempo, con anche un, un minimo di fondi, necessari, per poter lanciare la tua impresa, ok? Quindi sono due, diciamo, modi di crescita, due luoghi, che garantiscono la crescita, di un progetto, di una startup, con due metodologie differenti, tendenzialmente, l'acceleratore, in alcuni casi, può, oltre a darvi dei soldi, diciamo, per questa fase di accelerazione, chiedere poi, in cambio, delle quote della società, ok? Mentre invece nell'incubatore, no. Piccola parentesi, se avete domande, interrompetevi quando volete, ok? Bene, abbiamo parlato un pochettino, un po' di soldi, nel senso che sono poi, alla fine, anche una parte di linfa vitale, molto importante, per un'azienda, per un progetto, immaginate soprattutto, per dei ragazzi, che, in questo momento, possono dedicare, il loro tempo libero, oppure, licenziarsi, dal luogo di lavoro, e dedicarsi, solo, esclusivamente, full time, nel proprio sogno. Benissimo, bisogna però trovare, anche a un certo punto, anche i fondi necessari, per poter rendere, diciamo, concreto, quel tuo sogno, che stai realizzando. Facciamo due esempi, molto semplice, il Business Angel, e il Venture Capital. Allora, il Business Angel, tendenzialmente, può essere, una persona, qualunque, cioè, che voglia, in qualche modo, investire, dei soldi, in una, in una startup, dove, in cambio, io posso dare, una quota di denaro, in cambio, ricevere un equity, dell'azienda, e sto facendo, proprio, un'attività di investimento, con, l'obiettivo sperato, che questo investimento, che io faccio, tra pochi anni, possa essere, un per tre, per quattro, per cinque, ok? Ovvio, che, componente di rischio, elevata, componente di guadagno, potenzialmente elevata, ok? Sono delle forme di investimento, al momento, leggendo anche, degli articoli, in generale, se voi cercate, anche un po', sulle 24 ore, eccetera, in cui, c'è il più alto, tasso, diciamo, di rendita, in questo momento, ovviamente, c'è anche, però, il tasso, il più alto di rischio, ok? I venture capital, invece, sono, del, sempre, delle, delle forme, di investimento, un po' più istituzionali, ok? Quindi vuol dire che c'è un fondo di investimento, a cui aderiscono persone fisiche, aziende, fondazioni, eccetera, che mettono, collezionano un patrimonio, che decidono di investire, su una start up, su un progetto. Quindi, tendenzialmente, anche il venture capital, è una forma di finanziamento, anche, a un livello un po' più alto, rispetto a, a quello che può essere, il privato, che vuole investire, sull'azienda. A proposito di funding, di nuovo, se in finale, che poi, vabbè, questa parola si può tradurre in italiano, senza problemi, che è appunto finanziamenti, fondi, allora, qua sotto vedete, pre-seed, seed, round A, round B, vabbè, gli inglesi si divertono a dire, pre-seme, seme, round A, round B, allora, pre-seed, ovviamente, in ordine, si va da, pre-seed, che, che ne so, in qualche modo, è una, è un investimento, che io posso fare, in un'azienda, o, in un progetto, scusate, che appunto, è un'attività, ancora, non validata, sul mercato, una brillante, che può essere un brillante, una brillante idea, un brevetto, eccetera, ma che non c'è, forse neanche un prototipo, o forse c'è, ma non è ancora stato, diciamo, provato in giro, quindi, componente di rischio elevata, ma ovviamente, c'è il bene, in questo caso, anche in queste fasi qua, comunque, anche nelle fasi di realizzazione iniziale, è fondamentale avere una parte di finanziamento, un seed, bene, io inizio ad avere, un seed è la fase successiva, inizio ad avere un prototipo, inizio ad avere qualcosa di concreto, ok, va bene, io ti finanzio, questa parte, per poter andare sul mercato, e provare a vedere se funziona, il round A, alziamo la sticella, sempre di più, sono già sul mercato, ho un'attività, un'azienda, ma non ho ancora, diciamo, raggiunto maturazione, nel senso, ho bisogno ancora di altri fondi, per aprirmi al mercato statunitense, non lo so, perché io oggi sono congelato al mercato europeo, quindi, finanziamento è il round A, il round A si parla già di centinaia di migliaia d'euro, nel senso, andiamo nell'ordine di grandezza anche poi fisica di queste entità, round B, si supera anche poi il milione, eccetera, eccetera, ovviamente per fare ancora operazioni più alte, al massimo fino addirittura arrivare poi le quotazioni in borsa, aziende di questo genere poi sono arrivate a fare quotazioni in borsa, poi dopo vi cito anche degli esempi, ma comunque, gran parte, nomi antisonanti, come gran parte delle start up americane, che ovviamente sono quelle, ovviamente all'orecchio molto più diffuse, che va da Whatsapp, va da Linkedin, va da, cioè, sono tutte realtà che hanno iniziato a fare, esattamente, cioè hanno rispettato un po' questa scaletta di finanziamenti, più chi più chi meno, che poi adesso sono quotate in borsa, eccetera, ok? Allora, l'elevertor pitch, è un, dietro c'è una storia anche carina, raccontata tante volte, che scomponendo la parola, vuol dire appunto, elevator in americano, è l'ascensore, ok? Il pitch vuol dire fare un, diciamo, un intervento rapido, ok? Dove unendo, diciamo, i due elementi, significa che, io devo essere in grado di fare un discorso, un'opera di convincimento, con un investitore, in ascensore, nella durata di tempo necessaria per raggiungere, dal piano terra all'ultimo piano. Quindi capite che, ovviamente, immaginatevi di essere, in un contesto, diciamo, in cui meno c'è un grattacielo, perché se fate tre piani, avete di 15 secondi, quindi diciamo che è un po' difficile, però sempre un po' in contesto un po' americano, però immaginate appunto, ma sono casi di questi, casi reali, effettivamente accaduti ce ne sono, dove tu tenti tutto per tutto, tu entri in ascensore, perché l'unico momento in cui può anche non prendere il telefono, in cui non è distratto da altre cose, e tu, niente, ci provi e gli parli assieme a questa persona, che può avere i capitali per lanciare il tuo, il tuo sogno, e tu, cavolo, in quei 30 secondi, 60 secondi di tempo, gli devi praticamente dire, chi sei, cosa fai, perché lo fai, e quale il tuo obiettivo, e quale deve essere anche l'obiettivo, in qualche modo, far capire all'investitore, che se investe in te, ne ha un valore di ritorno, ok? Però comunque questa è un po' una parola che è tanto usata, l'elevator qui, ma che a di fondo, diciamo, un po' questa storiella. Ok, il bootstrapping, l'abbiamo accennato prima, di sfuggita, che riguarda il discorso sempre nel, diciamo, vi ricordate che prima abbiamo visto pre-seed, seed, round R&B, il bootstrapping è ancora prima del pre-seed, che significa, i soci fondatori, devono dare uno strappo, o perlomeno devono fare, diciamo, uno sforzo, per poter investire se stessi, quindi trovando i fondi, veramente di tasca propria, che fondi di tasca propria, vuol dire anche, non so, cioè, in termini economici, ma in termini di tempo, fare questo sacrificio, delle, tra virgolette, delle 24 ore non stop, in cui, ci provo, per io, per un mese, do il massimo, il tutto per tutto, per poter, fare poi, gli step successivi, ok, sotto, ho menzionato, appunto, Family, Friends and Fool, che è una, una formula carina, FFF, che è quella usata, di nuovo, da, non essere amici americani, che vuol dire, cercare di raccogliere, i primi fondi, i primi soldi, i primi spiccioli, dalla famiglia, dagli amici, e dai pazzi folli, che, cioè, non chiedete il motivo, ma 10 euro te li danno, e tu 10 euro li prendi, cioè, non so come dire, perché quelli ti serviranno, per, anche banalmente, andare a comprare qualcosa, che può servirti, per completare quello che stai facendo, ok, e qui ovviamente, c'è, in cambio un po', c'è la gloria, c'è, c'è un ringraziamento forte, in assenza, ok, non c'entra niente, rispetto a quello che abbiamo visto prima, MVP, questa è una parola, che adesso, viene molto usata, anche in aziende, e quant'altro, che è un acronimo, di Minimum Value Product, allora, è una fase da non trascurare, nel senso che, uno può sviluppare un prototipo, può validare la propria idea, può scrivere un brevetto, può fare delle cose anche, molto complesse, ma poi arriva il punto, in cui, comunque, tu devi uscire, e verificare, che quello che stai facendo, cioè, là fuori, qualcuno te lo accetti, che, le aspettative, che tu avevi, sul tuo prodotto, su tutto il servizio, sono confermate, quindi, l'obiettivo, qual è? E cercare, di realizzare, veramente, il minimo, valore, prodotto, ma comunque, al di là della traduzione letterale, comunque, il minimo livello, del tuo prodotto, servizio, che possa essere, testato, fuori, e utilizzato, questo è molto utile, perché ti apre, ti apre gli occhi, effettivamente, dal valore, che tu hai prodotto, perché è un conto, se tu sei in camera tua, nel tuo garage, nel tuo ufficio, e fai te le cose, hai una certa visione, una certa prospettiva, ma bisogna cercare, e questo è un suggerimento, che si dà sempre, di uscire fuori, da quella stanza, il prima possibile, anche se non è perfetto, è meglio che funzioni, e che non sia, perfetto, perché se ricerchi, la perfezione, non esci mai, e tutti i fondi, che prima ti sei cercato, e tutti i soldi, che gli amici, ti hanno dato, eccetera, potrebbero non bastare, quindi, non è, non è perfetto, non è della, che ne so, non è della forma giusta, non è affidabile, al cento per cento, ma funziona, benissimo, mettilo fuori, da quella stanza, dallo in mano a qualcuno, fallo usare a qualcuno, e poi lo miglioriamo, dimmi, esatto, sì, esatto, quindi il cosiddetto, beta testing, quindi adesso, aggiungo un'altra parola, che qua non c'è nell'elenco, ma in generale, la B test, quindi fare una prova, di una versione A, di una versione B, quindi comunque, cercare di dare, nell'ambito software, ad esempio, una, una versione preliminare, esteticamente, non va bene, esteticamente, la parte seria, ma più che altro, la parte funzionale, va, ok, facciamolo usare, raccogliamo feedback, modifichiamolo, e poi, poi riusciamo di nuovo, compiere questo iter, più volte possibile, nel minor tempo possibile, e un vantaggio assoluto, ci sono un sacco di realtà, fidatevi, ma anche, anche locali, eccetera, che hanno provato a tirar fuori, una cosa che doveva essere, veramente, perfetta, pulita, nessuna sbavatura, soft, digitale, o fisica, non importa, molti di questi, sono rimasti lì, sono rimasti nella stanza, perché dopo due mesi, tre mesi, quattro mesi, cinque mesi, i fondi finiscono, ok, le persone intorno a te, iniziano poi a dubitare, iniziano a essersi in generale, che possa essere l'investitore, che possa essere il tuo collega, il tuo socio, il tuo amico, tu gli avevi promesso, in qualche modo, quando hai iniziato, proviamoci, ci dedichiamo un mese, ma se questi due mesi, un mese diventano sei, capisci che, diventa difficile, il premature scaling, è una cosa che, capita, di rado, se volete, diciamo, non c'è una percentuale altissima, di questa, di questa casistica, ma avviene, quando, inaspettatamente, si raccolgono, una valanga, di fondi, comunque, si riescono a ottenere, molti più, risorse, rispetto a quelle necessarie, dove però, questa mole di, supporto, se volete, finanziario, non viene gestito, correttamente, si iniziano a spendere, risorse, in maniera, non intelligente, e quindi, succede, e succede, paradossalmente, questa azienda, questa startup, fallisce, ci sono degli esempi, esempi tipici, arrivano, ad esempio, dalle campagne, crowdfunding, questo è un termine, che, forse non ho messo, ma ve lo cito, vabbè, le campagne, crowdfunding, sono delle raccolte fondi, detto in italiano, ok, sono, tendenzialmente, delle piattaforme web, dove, tu, lanci, il tuo prodotto, come se fosse una campagna pubblicitaria, e dici, io, per, produrre questo oggetto, per produrre questo servizio, io devo avere, devo riuscire a raccogliere, 50.000 euro, 100.000 euro, ok, perché questi fondi, mi servono per fare, tan 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 tan, però io adesso, ti sto facendo vedere, con questo video motivazionale, con, con un prototipo, in generale, ti faccio, ti presento il team, ti faccio vedere, tutte le persone coinvolte, che comunque, ce la faremo, ci mancano questi fondi, quindi, chiunque di noi, può accedere a questa piattaforma, e in un'operazione, di acquisto, in preordine, quindi significa, che io compro, questo telefono, in preordine, e quindi posso pagarlo, il 30% in meno, il 40% in meno, dipende, e con questa operazione, io sto dando dei soldi, sapendo che comunque, io questo telefono, l'ho pagato di meno, lo riceverò, tra sei mesi, tra otto mesi, c'è un, c'è un, una dilatazione di tempo, ovviamente, perché, quei fondi lì, devono essere usati, per realizzare questo telefono, ok, quindi, questa è la, è la metodologia più classica, diciamo, della più famosa, Kickstarter, Indiegogo, sulle due piattaforme, più grandi al mondo, di questo genere, ve l'ho citato, perché, ci sono stati, dei casi, in cui ci sono state aziende, che hanno raccolto, milioni, voi andate a vedere, se cercate, Pebble, Peble, si scrive, è un orologio, da posto, ha fatto uno, dei primi, wearable, smartwatch, ha fatto due campagne, di cui, se non sbaglio, una delle due, comunque ha battuto record, di fondi raccolti, parliamo di 14, 15 milioni di dollari, eccezionale, cioè nel senso, con quei fondi, lo fai, un prodotto, un servizio, nel senso, ne hai di risorse, però, se poi andate a leggervi, un po' la storia, vedete, che comunque, poi, le sopebo, non esiste più, è stata poi assorbita, da altre aziende, eccetera, eccetera, cioè, è franata su se stessa, ok, dall'overfunding, chiamiamolo così, ho anche detto, appunto, prematose scaling, quindi, crescere, così rapidamente, che però, non hai la struttura sotto, per poterla reggere, quindi, è come fare un palazzo, senza fondamenta, ok, allora qua, lo storytelling, è anche questa, una, una cosa tipica, delle start up, che, adesso, le aziende, stanno iniziando, anche, soprattutto, parliamo di, di corporate, quindi, aziende anche grandi, multinazionali, stanno man mano, cercano di portare in casa, perché hanno scoperto, che comunque, è una leva marketing, anche interessante, quella di saper raccontare, una storia, del tuo prodotto, e di nuovo, ritorniamo all'elevator pitch, io ho tre minuti di tempo, per raccontare, la storia, o comunque, in generale, raccontare il valore, che ha, la mia azienda, le persone, che ci lavorano, eccetera, affinché, io possa raccogliere fondi, vendere un prodotto, eccetera, quindi, fare uno storytelling, significa, in poche parole, riuscire a raccontare, in poco tempo, e in maniera incisiva, quello che stai facendo, il tuo prodotto, il tuo servizio, la tua azienda, perché, tu puoi avere, come obiettivo, quello di riuscire a vendere, quel determinato tipo di prodotto, eh, di fatti, si inizia, di fatti, sotto c'è il che dice, tell it, don't sell it, diciamo che durante le fasi di racconto, non devi dire, compralo, cioè, non immaginata come una pubblicità televisiva, dove, a soli, 10 euro, puoi avere, questo, questo, più le pentole, materasso, no, cioè, non è storytelling, ok, ma se tu ti metti a raccontare, il successo di un'azienda, come è nata, e ti metti, la, che ne so, un'azienda a conduzione familiare, nata dal nonno, eccetera, cioè, ti fai capire che dietro c'è una storia, un valore, di quello che viene realizzato, prodotto venduto, la leva poi commerciale che viene utilizzata è molto forte. Nelle start up si usa tanto, perché ovviamente all'inizio si cerca soprattutto per raccogliere fondi, per cercare di essere incisi sul mercato, e cercare anche di avere quel palcoscenico dove, un esempio nel settore, lasciatemi passare, tech, o anche pharma, cioè, è occupato dalle big company, se io oggi faccio un prodotto elettronico, faccio questo puntatore per slide, eccetera, ok, io posso farlo anche, boh, in maniera innovativa, ne so, trovare una maniera tale per cui risolvo un problema che altri non sono riusciti, sì, ma io comunque sto competendo con aziende gigantesche che fanno questi oggetti, a un terzo del prezzo, del costo che io impiego, ok, quindi comunque il problema è quello, se io lancio un prodotto tecnologico come Sherlock va bene, però io domani potrebbe arrivare Samsung e fare la stessa cosa, poi non lo fa perché ci sono determinati motivi, però è per quello che una startup in qualche modo deve essere più brava a raccontarsi rispetto, se volete, anche a una grande azienda, ok, spin off, questo fa riferimento a quelle realtà che nascono, come costole di entità un po' più grosse, ad esempio il classico, l'esempio tipico è lo spin off universitario, quindi un'azienda che nasce come costola ad esempio di una ricerca universitaria, di un docente, di un ricercatore, cioè nel senso portiamo, in quel caso lì viene, si cerca di portare l'attività di ricerca sul mercato, e quindi si crea un'azienda che abbia però un collegamento stretto, in questo modo, in questo caso con un ente di ricerca, oppure può essere uno spin off aziendale, il caso di, ad esempio, Nen, che è uno dei provider di energia elettrica, che adesso ho trovato anche delle pubblicità poi in televisione e quant'altro, Nen nasce come spin off di A2A, quindi parliamo di un'azienda molto grossa, in cui un gruppo di dipendenti ha deciso di creare un prodotto nuovo, un servizio, che poi è diventata un'azienda, perché sarà un'azienda in cui c'è una partecipazione di Nen, eccetera, ma non è un prodotto di A2A, è Nen, ok? Quindi in questo caso si è creato una nuova entità, come costo, diciamo, come collegamento alla principale. Arriviamo all'ultima, che indica la porta di uscita, molto spesso, nel mondo startup è quella cosiddetta exit, che significa quella, se volete, vendita, quella cessione, nel senso, quell'atto in cui l'azienda viene incorporata, acquisita, venduta, cioè nel senso, dipende ovviamente da mille fattori, all'interno, nel senso, a qualcuna, viene venduta a qualcun altro, non so, Whatsapp ha fatto un exit a Facebook, che l'ha comprata per tot miliardi di dollari, ovviamente sono cifroni, un sacco di zeri che manco un'immagine, però ci sono realtà più piccole, che fanno la loro exit, verso un'azienda più grossa, perché a quell'azienda, interessa, la tecnologia, interessa l'innovazione, che è stata sviluppata, perché anche poi, anche parlando anche qua nel territorio, comunque aziende grosse, che fanno acquisizioni di startup, comporta tutta una serie di vantaggi, perché, certe volte, può costare meno, fare un'acquisizione, di un'azienda di questo genere, piuttosto, che pensare di investire, un budget, per dover creare internamente, un team, un laboratorio, fare tutta quella formazione, assumere delle persone, fare tutta quella formazione, per ricreare la stessa cosa, paradossalmente, io spendo 2 milioni, e posso comprare, il 100% di una startup, piccola, ma che ha fatto una cosa, super interessante, è un cifrone, comunque molto importante, se ci pensate, ma paradossalmente, può essere comunque, una cifra, che è disposta a spendere, o che può essere inferiore, rispetto a quella, che dovrebbe investire, quell'azienda, per poter rifare la stessa cosa, e poi anche, una cifra di tempo, se io la compro, io domani ce l'ho, se io invece decido, va bene, ma io sono un'azienda gigantesca, ho 100 ingegneri, anche di più, posso assumerne, faccio 50 milioni di fatturato, lo posso rifare, sì, ma se è in grado di farlo, nel giro di, pochi mesi, che poi, anche se poi, può essere anche già troppo, certe volte, dici, ok, va bene, senti, dimmi quanto fa, dimmi quant'è, facciamo la valutazione, cioè c'è tutto poi, un iter molto complesso, ma, è un discorso anche di tempistica, ok, e quindi, in quel caso lì, ci sono tutta una serie di, motivazioni, tali per cui, si fanno questo genere, di operazione, è una cosa che sta diventando, molto tipica, per le grandi aziende, fare queste acquisizioni, e di conseguenza, per le start up, fare delle exit, poi, può accadere la qualunque, nel senso che le persone, che comunque ci hanno lavorato, possono continuare, le dinamiche, possono essere molteplici, non c'è una regola fissa, però, in generale, è una cosa che succede, nel senso, che può capitare, che capita, e per alcune aziende, è anche un obiettivo importante, ok, io adesso, ho concluso un po', l'elenco, di paroloni, e quant'altro, qua, in questa slide, c'è un sottinteso, di un'altra parola, che, se volete, è unicorno, tra l'altro, questa immagine qua, questa foto qua, l'avevamo fatta, alla Pixar, quando eravamo andati, in Silicon Valley, avevamo un cliente, piccola netta, avevamo un cliente, che aveva comprato Sherlock, scopriamo, che questo dipendente, lavora alla Pixar, noi iscriviamo, noi siamo, eravamo lì, per altri motivi, mi fa, scusa, ma, non è che possiamo, fare un giro alla Pixar, venite a trovare, eccetera, eccetera, vabbè, comunque, ci ha aperto le porte, poi, per carità, c'è il visit on center, eccetera, poi, grazie a lui, siamo andati anche, un po', sbirciare negli uffici, sbirciare da fuori, perché è guai, non si può entrare negli uffici, però, in quel caso lì, c'erano, poi, tutte queste sale, c'era anche questo unicorno, vi cito la parola unicorno, perché, si sente anche questa, una parola legata al mondo startup, cos'è un unicorno? è una startup, che ha raggiunto la valutazione sul mercato di un miliardo, è tanto, non deve aver fatto quotazione in borsa, il primo unicorno italiano, chi è? E' Jux, ok? Quindi, quello Jux, che è poi stato acquisito, eccetera, eccetera, poi è stato il primo unicorno italiano, ovviamente, in Italia, non ce ne sono tanti di unicorni, si contano solo appunto delle dita, spesso sono unicorni, che però hanno una sede, poi all'estero, all'onda, se non sbaglio, forse anche con, comunque, in generale ce ne sono anche altre, vabbè, molte degli unicorni sono, vabbè, i primi anche, sono quelli americani, e quindi aziende, che prima di fare la quotazione in borsa, hanno raggiunto una valutazione di mercato di un miliardo di euro, ok? Quindi, questa è un'ultima parola che vi lascio, è sottintesa un po' nell'immagine, e vi ringrazio. Grazie a tutti.